E' una volta che stai alla moda voleva dire Mi diceva sempre mia nonna, invece sarà la moda per me avere classi, nel senso di saper terminare, avere un certo stile Vestire sacco Io ho più comodità Comodità Beh, sono sempre in giro, quindi un po' di attività fisica, una volta con nuota per il lavoro, quindi lo sport Non ho segreti, sono giovane Per l'ultima decorazione, molto probabilmente, sarò alla prima misi dell'anno, a Rimini, quindi so che per quelle occasioni Sashi mi preparerà qualcosa di grande L'ultima decorazione sarò con Maria a Rimini, per usaremo entrambe le stesse Sashi Verde, la speranza Nero Un ragazzo Mi manca, quindi qualcosa per potermi lavare, perché comunque è gesesto Disco a te Fino a tutti amici Bracciare le scarpe Un ragazzo 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 Un ragazzo